buongiorno benvenuti alla celebrazione in qualche modo comunque a come dire a un appuntamento importante annuale il secondo quest'anno dedicato alla porpora trombotica trombocitopenica benvenuti in we health che è uno spazio live che oggi quasi sostanzialmente inauguriamo e siamo molto contenti di farlo con l'associazione nazionale appunto che si occupa della porpora trombotica trombocitopenica onlus che l'associazione di riferimento dei pazienti grazie alla quale abbiamo organizzato e che sostiene insomma questo questo appuntamento una patologia rara e come tutte le patologie rare purtroppo molto impattante e per alcuni aspetti un pochino dimenticata e questo è uno dei motivi per cui oggi siamo qui in tanti in questo spazio a roma caldo perché la stagione è quella che è in tanti anche che ci state seguendo da fuori voi non la vedete c'è una sala piena di rappresentanti della dell'associazione ma anche di tutti quelli che sono gli stakeholder esterne le aziende che sostengono la ricerca in questo campo clinici di riferimento che fra poco conoscerete che ringrazio a cui do intanto il benvenuto in questo in questo nostro spazio per iniziare la nostra mattinata perché saranno un paio d'ore in cui metteremo a fuoco qualche problematica e soprattutto qualche esortazione che viene dai pazienti e dalle loro famiglie soprattutto do volentieri il benvenuto al presidente della dell'anptt onlus tor massimo chiaramonte che prego di tanto di aprire le danze in qualche modo con con un saluto prego presidente buongiorno e ben arrivato intanto buongiorno a tutti grazie e vi ringrazio soprattutto di essere tutti quanti qui ringrazio come stato già detto i clinici ringrazio il nostro partner ringrazio tutti quegli altri soprattutto la comunità dei porporini perché noi ci chiamiamo così porporini abbiamo deciso di chiamarci così e quindi mi vi auguro di ascoltare anche delle novità ma soprattutto è una giornata come è stato detto prima che dove cercheremo di mettere a fuoco alcune nostre problematiche che sono in un qualche modo stiamo cercando di portare avanti stiamo cercando di poter arrivare poi ad una risoluzione grazie a tutti e buon ascolto grazie grazie mille grazie presidente parlavamo di stakeholder e di chi sostiene le associazioni dei pazienti la ricerca e il progresso anche medico scientifico in questo campo ci sono i clinici naturalmente ma ci sono le aziende con noi c'è la dottoressa fulvia filippini country public a feretti sanofi che ringraziamo per averci aiutato e sostenuto nell'organizzazione di questo evento a lei volentieri il microfono per i saluti a tutti grazie corrado grazie veramente per essere qui un breve benvenuto io in rappresentanza di tutta l'azienda che anche qui ben rappresentata da tanti colleghi che sono felici siano venuti ma soprattutto un grazie a voi per essere qui in una giornata davvero speciale questa la seconda giornata nazionale e noi come sanofi ci impegniamo ogni giorno per portare terapie best in class first in class che trasformino la vita dei pazienti laddove ci siano dei bisogni clinici insoddisfatti però riteniamo fondamentale anche parte diciamo della nostra missione anche promuovere dibattiti come questo a fianco dell'associazione veramente essere a fianco di massimo del suo entusiasmo è contagioso e ci sono tanti temi oggi su cui ci focalizzeremo quindi sono sicura che sarà una giornata ricca di spunti ma soprattutto ci auguriamo anche che sia una giornata che possa dare risposte concrete ai bisogni dei pazienti a cui noi siamo vicini soprattutto nell'ambito delle malattie rare e ultra rare da oltre 35 anni grazie grazie Fulvia e allora entriamo nel merito di questa patologia che è stata definita ultra rara ha un nome difficile fortuna il presidente ci è venuto incontro definendo gli appartenenti all'associazione i porporini che già un pochino ci facilita come assonanza ma a parte gli scherzi cerchiamo di capire di che cosa si tratta con i prossimi due interventi di che cosa si tratta e quali sono anche le implicazioni in primis di carattere clinico dovremmo aver collegata con noi la dottoressa vanessa agostini che consigliere della sidem che la società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare di genova dottoressa buongiorno eccola la vedo bene abbiamo detto dottoressa la ttp una patologia rara acuta che ha un primo grande come dire punto di focus che è la necessità di reperire il plasma lascio a lei il microfono a delle slide di presentazione che ci aiuteranno anche a capire che non è una parte proprio facilissima dal punto di vista della comprensione di chi non è un tecnico i pazienti purtroppo sono molto esperti e per loro è molto più facile a lei la parola e grazie di essere qui con noi dottoressa grazie a voi e inizio subito confermando che la corpora trombotica trombocitopenica o sindrome di moscovitz è scoperta intorno agli anni 20 è una vera e propria emergenza ematologica si caratterizza per un esordio veramente acuto e generalmente i segni sintomi legati a questo esordio acuto sono caratterizzati se mi date la prima diapositiva dall'anemia e dalla piastrinopenia per darvi questo un po di numeri come vedete c'è un'incidenza annuale di 2 barra sei casi per migliore di popolazione all'anno questo per dirvi che la rarità della della patologia e la prevalenza è intorno ai 13 19 casi per milione nelle forme che sono diciamo su base immune mentre molto più più bassa intorno al 0 52 casi per milione di popolazione nelle forme cosiddette con gente ed è causata da una deficit questa patologia nell'attività di una metalloproteasi una sorta di forbice che taglia uno dei fattori della coagulazione che il fattore di von willebrand implicato nella adesione nell'aggregazione delle delle piastrine quindi mancando questo enzima che che taglia lo dico in maniera molto molto semplice si creano i multimeri del fattore von willebrand che provocano proprio la microangiopatia trombotica l'esordio acuto e se la patologia non è diagnosticata e trattata tempestivamente ha una mortalità di circa il 90 per cento tale mortalità scende oggi fortunatamente a un 5 10 per cento se iniziamo tempestivamente il trattamento e se il trattamento è un trattamento adeguato generalmente un trattamento che richiede un approccio che è di tipo multidisciplinare perché ci sono più attori coinvolti ci sono i medici di pronto soccorso ci ci sono i medici di medicina e trasfusionale proprio perché è uno dei trattamenti cardine proprio rappresentato dalla dalla plasma feresi se mi andate alla successiva e vi faccio vedere la stratificazione proprio delle forme cosiddette immunomediate che rappresentano il 95 per cento dei casi di porcora trombotica trombocitopenica verso un 5 per cento dei casi di forma che è congenita quali sono le manifestazioni cliniche perché abbiamo detto che abbiamo una clinica e poi abbiamo dei dati di laboratorio che dobbiamo interpretare assieme ai dati clinici che lo vediamo nella diapositiva successiva le manifestazioni cliniche sono manifestazioni che una volta rientravano in quella che veniva chiamata la pentade di di reno quindi cinque manifestazioni e l'anemia emolitica il calo delle piastrine la febbre disturbi neurologici e problemi renali che in realtà oggi sappiamo essere presente nel 40 per cento dei pazienti quindi non tutti non tutte le porfore trombotiche trombocitopeniche si stanno con l'intero corteo sintomatologico vedete però che il paziente che può avere una trombocitopenia può avere sia manifestazioni emorragiche ma molto spesso le manifestazioni sono all'opposto di tipo trombotico poi ci possono essere sintomi non specifici legati ad un aumento della bilirubina quindi littero poi ci possono essere i segni e sintomi legati all'anemia quindi una estrema fatica e ci sono i sintomi neurologici che possono essere anche severi nella diapositiva successiva vedete che dobbiamo fare una diagnosi differenziale se andiamo avanti con altre patologie che possono simulare il la corpora trombotica trombocitopenica quindi non è sempre semplice e così è veloce riuscire ad arrivare alla diagnosi e questo richiama la necessità per le patologie che sono rare che hanno un esordio acuto proprio di lavorare in maniera multidisciplinare di avere un team che sia disponibile e pronto ad affrontare questo tipo e di problema nella diapositiva successiva sono diciamo le indagini diagnostiche che ci servono per arrivare ad una diagnosi differenziale con le altre patologie molti di questi sono esami che vengono rutinariamente in tutti gli ospedali a livello a livello nazionale alcuni di questi non sempre vengono fatti in particolare ad esempio il dosaggio della troponina se non ci si pensa e non viene eseguito invece è un esame che dovrebbe essere fatto proprio perché ci sono manifestazioni di tipo trombotico che possono coinvolgere anche il labio quindi abbiamo un insieme di dati clinici e un insieme di indagini di lavoro che vanno messe assieme se andiamo avanti vi faccio vedere quali sono gli esami e come li mettiamo assieme attraverso una valutazione della probabilità di avere una corpora trombotica trombocitopenica possiamo utilizzare due score di rischio che sono il French score e il Plasmic score quindi se abbiamo il sospetto clinico andiamo immediatamente a valutare qual è la probabilità di avere un paziente con una corpora trombotica trombocitopenica ed immediatamente dobbiamo vedere il test specifico per andare a vedere quella proteina, quella metalloproteasi che taglia dal fattore von Willebrand e ricercare nella diagnostica differenziale se abbiamo una forma acquisita legata alla presenza di anticorpi contro questa metalloproteasi oppure una forma congenica. Nella diapositiva successiva si può vedere qual è la storia della terapia che come vedete inizia nel 1924 con il primo caso riportato e nel 1977 il primo trattamento che viene fatto esclusivamente con il supporto della terapia trassusionale con il plasma. Nel 1991 si passa alla terapia invece con il plasma exchange. In che cosa consiste la plasma exchange? Consiste nella rimozione del plasma e del paziente che ha la corpora trombotica trombocitopenica per rimuovere gli anticorpi anti-ADAMS-13 ma nello stesso tempo dobbiamo restituirgli l'ADAMS-13 non normale e il fattore von Willebrand normale e quindi da una parte rimuoviamo il plasma del paziente e dall'altra ridiamo plasma e abbiamo necessità di discreti volumi di quantità di plasma da somministrare per effettuare lo scambio lo scambio plasmatico plasma exchange lo scambio plasmatico lo utilizziamo spesso in maniera diciamo come come sinonimo. Nella diapositiva successiva vediamo che queste sono le possibilità terapeutiche che oggi ci sono e come vedete nelle tre linee di trattamento la prima è proprio replacement ADAMS-13 therapy e trovate il plasma exchange. Le altre terapie sono quelle che poi vengono impostate più o meno contestualmente dai patologi con i quali si collabora intensamente ma il primo diciamo approccio ancor prima a volte di avere la conferma e di iniziare il trattamento tempestivamente data l'acuzie della malattia e nella diapositiva successiva è illustrato quale tipologia di trattamento possiamo fare con il plasma exchange indicando come vedete che la terapia di scambio plasmatico deve essere una terapia fatta inizialmente tutti i giorni quindi i pazienti che vengono trasfusionati oppure sono ricoverati in un reparto di terapia intensiva o comunque di subintensiva tutti i giorni devono essere sottoposti allo scambio plasmatico e generalmente i volumi che vengono rimossi variano da 1 a 1 e 5. di plasma rimosso corrispondente a 40 60 ml per kg mi viene sempre in mente un paziente che ho trattato tantissimi anni fa più di 13 anni fa che peraltro era un donatore di plasma era un donatore di plasma AB che come molti di voi sanno è il plasma universale mentre per i globuli rossi abbiamo lo zero negativo per il plasma il plasma AB è il plasma universale bene questo donatore di plasma AB purtroppo è diventato paziente in questo paziente siamo arrivati addirittura ad eseguire 70 procedure di plasma di plasma feresi e per ogni procedura di plasma feresi avevamo necessità di utilizzare quattro unità di plasma da 600 ml quindi vedete che quattro per quattro unità di plasma per un paziente di 70 80 kg vuol dire tanto plasma di cui abbiamo necessità se poi lo moltiplichiamo per un numero così di procedure il paziente me lo ricordava sempre dottoressa tutto quello che ho donato per fortuna mi viene mi viene ridato ed è una bellissima che oggi fortunatamente abbiamo terapie nuove e quindi abbiamo fortunatamente ridotto il plasma di cui però continuiamo ad avere una enorme necessità e quindi io ringrazio l'invito oggi perché mi consente di fare l'appello ai ai donatori sia quelli periodici ma anche a chi ancora non si è avvicinato al mondo della donazione di venire a donare plasma che oggi viene considerato il vero driver in tutti i programmi di autosufficienza nazionali e a nuovo che in pubblicazione a breve in gazzetta ufficiale sarà richiamata l'importanza della donazione del plasma sia per l'utilizzo che ne facciamo clinico e il grosso che utilizziamo nei pazienti proprio con porfora trombotica trombocitopenica sia per plasma otteniamo medicinali che sono medicinali plasma derivati grazie 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 davvero dottoressa grazie soprattutto per avere come dire per prima lanciato il primo di numerosi appelli che oggi lanceremo ma uno questo è uno sicuramente quelli tra i più importanti che è sulla donazione del plasma perché come ho visto è poi sostanzialmente la prima opzione per questi per questi pazienti e adesso scopriremo che non soltanto è una delle prime opzioni e va bene ma che c'è un problema di tempo che è fondamentale non si tratta di giorni o due giorni una settimana di ore esattamente di ore e questo ce lo racconta la dottoressa luana fianchi che oggi sarebbe stata molto volentieri qui con noi ma troppo è impegnata in ospedale quindi aveva era come si dice di turno in qualche modo che però abbiamo raggiunto ematologa del policlinico universitario agostino gemelli che ha portato la sua testimonianza proprio da ematologa cioè di chi poi a un certo punto si trova a tu per tu con gli occhi dei pazienti prego la regia di mandare in onda buongiorno a tutti mi scuso per non essere lì in presenza ma motivi indipendenti la mia volontà mi hanno impedito di essere presente in questa giornata così importante per i nostri pazienti ci tenevo comunque a dare il mio contributo attraverso una brevissima presentazione per chiarire quelli che sono gli aspetti importanti della porpora trombotica trombocitopenica dal punto di vista dell'ematologo la porpora trombotica trombocitopenica è una microangiopatia trombotica come sapete che può essere è molto rara ma può essere potenzialmente letale se non viene riconosciuta in tempi brevi normalmente esiste quella che noi definiamo la classica pentade della porpora trombotica trombocitopenica che fondamentalmente è rappresentata da una grave riduzione della conta piastrinica da un'anemia con presenza di schistociti che sono questi globuli rossi frammentati un coinvolgimento neurologico che può essere sfumato con una lieve cefalea ma addirittura pazienti possono arrivare in coma ci possono essere alterazioni renali e la febbre nel 25 per cento dei casi quella che viene descritta come classica pentade in cui vedete le percentuali in cui può essere possono essere presenti le varie sintomatologie in realtà sono presenti tutti e cinque questi aspetti in meno del 10 per cento dei pazienti quindi la diagnosi potrebbe non essere chiaramente semplice e bisogna pensarci quando bisogna pensare ad una porpora trombotica trombocitopenica e quelli che possono essere i sintomi con cui i nostri pazienti si presentano in pronto sopporto che è il primo approccio in cui giungono i nostri pazienti abbiamo detto possono essere sintomi neurologici nel 60 per cento dei casi con una cefalea confusione addirittura alcuni pazienti possono avere degli attacchi epilettici veri e propri o possono arrivare in coma può esserci la manifestazione renale che può essere più o meno marcata a seconda dei casi è molto più marcata in genere nella sindrome oremico-emolitica che è una patologia simile alla porpora trombotica trombocitopenica in cui però l'ADAMS è normale possono esserci dei sintomi con dolori addominali a volte il paziente riferisce di avere diarrea per un coinvolgimento di quello che è il circolo mesenterico che è un circolo molto importante a livello addominale e possono esserci anche dei segni di coinvolgimento cardiaco con un ischemia che è anche frequente nel 25 per cento dei pazienti in cui si riscontra proprio un aumento di quelli che sono gli indici di danno ischemico cardiaco da un punto di vista quindi di diagnosi dell'ematologo o del collega di pronto soccorso quando c'è una piastrinopenia e un'anemia e sono presenti questi segni e sintomi di danno d'organo che possono essere più o meno sfumati la cosa principale intanto è avviare la richiesta della ricerca degli schistociti quindi l'ematologo si mette al microscopio viene fatto il prelievo e si cerca la presenza di questi globuli rossi frammentati per il passaggio in questo circolo che è alterato per questa aggregabilità e iperaggregabilità che si ha a livello dell'albero vascolare nei pazienti con porfora trombotica trombocitopenico per effetto acquisito della carenza di adams 13 e se questi sono positivi bisogna poi completare il workup facendo quello che noi chiamiamo un conto di quello che può essere una stima della possibilità che il paziente possa avere una porfora trombotica trombocitopenica degli score che sono utili perché utilizzano degli esami molto semplici che possono essere fatti in pronto soccorso con un banale prelievo di sangue ma la cosa prioritaria è avviare assolutamente quello che è il dosaggio dell'attività di adams 13 che sappiamo essere il vero attore che manca in questa in questa patologia la carenza per effetto degli anticorpi fa sì che il conville brand di alto peso molecolare non venga tagliato e questo genera la situazione di iperaggregabilità che in ultimo è responsabile del danno d'organo della piastinopenia e dell'anemia quindi fondamentale è il dosaggio dell'attività di adams 13 un test fondamentale le linee guida ci dicono l'avete sicuramente già ascoltato nella presentazione probabilmente precedente su quanto sia importante eseguire lo scambio plasmatico la plasmaferesi quindi cercare di rimuovere il conville brand di alto peso molecolare dal circolo fornire adams 13 fresco e rimuovere gli anticorpi e i pazienti con questa diagnosi devono essere gestiti sicuramente in un ambiente di leggenza intensivo piuttosto che in un ambiente di leggenza ordinario ma quanto è importante il tempo il tempo è fondamentale in questa patologia non mi stancherò mai di ripeterlo in questo lavoro di un paio di anni fa gli autori hanno voluto verificare quanto effettivamente fosse il tempo dal sospetto clinico all'inizio della terapia con il plasma change le linee guida raccomandano che lo scambio debba essere iniziato entro le 4-8 ore dalla diagnosi sospetta ebbene in questo studio quello che si vede è che oltre il 50% dei pazienti che avevano una sospetta porcora trombotica trombosicopenica aveva ritardato oltre le 8 ore e la cosa ancora più importante è che i pazienti che avevano ritardato oltre le 24 ore quindi una diagnosi tardiva e un inizio tardivo della terapia impattava sicuramente negativamente sia sulla sopravvivenza che sulle sequele a lungo termine trombotiche della patologia che sappiamo poter essere anche molto invalidanti per i nostri pazienti le linee guida e questa ci raccomandano una serie di passaggi in questa immagine ho voluto ripercorrere quelli che sono i tempi più o meno dall'accesso del nostro paziente in pronto soccorso il coinvolgimento di vari specialisti perché è fondamentale nel trattamento di questa pera di questa malattia la multidisciplinarietà fino ad arrivare al trattamento cardine che sono appunto gli scambi plasmatici l'osseroide e l'utilizzo del caplacizumab nei pazienti con diagnosi confermata che ci viene anche raccomandato dalle linee guida ancora una volta le linee guida ci raccomandano quanto sia importante il tempo ma l'altra cosa che viene sottolineata e ci tengo a sottolinearlo anche oggi perché questa deve essere ancora una conquista l'ottenere il dosaggio di adams 13 in tempi brevi in più centri possibili cosa che ad oggi non è ancora invece fattibile in italia l'adams 13 che deve essere ottenuto entro le 72 ore perché questo consente di utilizzare il farmaco cardine che ha cambiato un po la prognosi di questa di questa malattia quindi in ultimo chiudo con questa immagine che è quello del monumento invisibile che è stato posto due anni fa qui a roma solo per sottolineare che il fatto di conoscere la patologia sicuramente rende più verosimile e maggiormente probabile effettuare una diagnosi tempestiva che è fondamentale per il bene di nostri pazienti vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e vi auguro una buona giornata grazie bene ringraziamo la ringraziamo ancora la dottoressa fianchi e cominciamo a mettere diciamo in fila alcune delle parole d'ordini della della giornata di oggi che sono plasma feresi donazione del plasma fattore tempo fondamentale ma soprattutto trattamento entro poche ore avete visto il grafico che ci ha presentato la la dottoressa fianchi siamo entro le 4 5 6 ore massimo poi parleremo anche del che cosa succede nel resto d'italia guardo il presidente su alcuni di questi esami che mettono in difficoltà in qualche regione i nostri pazienti come tutte le trasmissioni in diretta gli incontri che trasmettiamo in diretta le scalette sono fatte per essere cambiate noi ringrazio abbiamo con noi qui l'onorevole ilenia malavasi membro della dottiesima commissione affari sociali che però ha un tempo contingentato perché tra poco dovrà iniziare iniziano le votazioni in aula e quindi è richiamata ai suoi doveri istituzionali non prima però di averle fatto ascoltare lei ovviamente ma anche a noi tutti la testimonianza di uno dei pazienti perché come avete letto nel titolo della dell'incontro di oggi che ho qui segnato in grande in grande carattere giornata nazionale le istanze dei pazienti perché se ci sono delle problematiche di carattere come dire scientifico clinico organizzativo dei servizi ci sono sicuramente e molto pesanti delle problematiche e delle esigenze da parte dei dei pazienti abbiamo incontrato nei giorni scorsi l'avvocato annunziata piccolo una paziente ovviamente iscritta a all'associazione che oggi ci fa in qualche modo da accompagnatrice in questa in questo viaggio verso la conoscenza di questa patologia che ci ha lasciato una testimonianza tratti anche toccante e chi ha della regia volentieri di mandarle in onda buongiorno a tutti io sono annunziata piccolo tanti membri dell'associazione mi conoscono già perché uso questa associazione per dare consigli chiedere consigli come molti di voi sanno io ho avuto la porcola trombotica trombocitopenica nel 2013 partendo da un soggetto che non aveva mai avuto neanche un virus sincronizzato tutti quelli che mi ascoltano sanno di cosa parlo o in via diretta o in via in diretta sanno la lotta che c'è per uscire da quell'ospedale ma pochi sanno quello che ci portiamo dentro dopo pochi sanno la battaglia della conoscenza che dobbiamo fare con noi stessi la primaria del trasfusionale di pescara dove io ero in cura quando mia madre un po' smacchita al giorno delle dimissioni mi chiese dottoressa adesso lei disse una cosa che è vangelo guardi signora adesso è lei che imparerà a conoscere se stessa sarà il suo corpo a dirgli cosa deve fare o cosa non deve più fare si conoscerà piano piano beh voi tutti sapete che è così o perché le vostre mogli i vostri mariti i vostri figli o perché voi direttamente vi siete ritrovati con dei limiti fisici che prima non avevate i limiti mentali dei vuoti di memoria di quelle cose totalmente cancellate sì li conosciamo tutti i dolori i dolori intercostali i momenti di cataplessia che mi hanno portato anche al besta per sentirmi dire guarda è un postumo del moscowicz c'è tanta roba noi la conosciamo tutti però c'è una cosa che almeno personalmente è nata in me porto con me ormai questa malattia da dieci anni a me piace dire che come il mio secondo nome e non perché ne sono vittime perché fa parte di me c'è lei c'è però mi dico una cosa forse ho imparato a conoscermi un po meglio tutti noi abbiamo fatto un l'uscita dall'uscita dall'ospedale c'è l'impatto psicologico di chi dice perché a me e chi non se le domandano perché a me tutti ce lo siamo domandati perché a me però alla fin fine quello che dico spesso anche ai soci nelle nostre chat e fa parte di noi impariamo a renderlo come un gemello siamese no al momento per fortuna è lì per niente io poi adesso sto generando una nuova vita io solo sa con quanto paura io solo sa con quanta paura che questo mio nemico in corpo non aggredisca questo povero cucciolo che sta provando a crescere dentro di me è chiaro che si ha paura è chiaro che come se hai un fratello gemello che non riesci sempre a controllare però c'è cerchiamo di conoscerlo il più possibile cerchiamo di incrementare la ricerca per far sì che non resti questo nemico sconosciuto dentro di noi per far sì che impariamo a conoscerlo a conviverci sempre meglio per noi donne che l'aspetto della gravidanza non diventi questa cosa ignota della serie signora speriamo bene ma signora facciamo così e così e così è importante per noi che già cerchiamo in tutti i modi di conviverci e di renderci amico questo sconosciuto che solo noi conosciamo meglio di tutti non è semplice ma sono certa che si può fare molto sono speranzosa al riguardo perché tutti noi sappiamo che la speranza ci porta avanti la ricerca ci porta avanti è una proiezione verso il futuro che è meravigliosa anche gli aderci a tutti nell'incertezza che l'avvocato piccolo non potesse essere qui con noi oggi in virtù del fatto che appunto aspetta un bambino abbiamo condiviso con lei la come dire l'opportunità di registrare la sua testimonianza per introdurre il grandissimo tema delle esigenze dei pazienti però poi siccome il destino e anche la volontà qualche volta rimano contro io ringrazio e saluto l'avvocato piccolo che invece che invece ci ha raggiunta e riuscita nonostante il caldo romano e la passeggiata spero piacevole però per le vie del centro per arrivare non è che ringrazio davvero ringraziamo per la testimonianza e ci ho tenuto a diciamo a tenere come dire tra virgolette i stand by l'onorevole Malavasi proprio per farle anche ascoltare un po' quelle che erano tutte le tappe che oggi abbiamo e tratteremo ancora dopo in maniera più approfondita con l'occasione ringrazio e do il benvenuto all'onorevole Gian Antonio Girelli anche il membro della dodicesima commissione affari sociali grazie onorevole di essere qui con noi che insieme alla collega tra pochissimo ci lascerà per per le votazioni provando a stravolgere un pochino il nostro programma noi ci dimentichiamo delle telecamere che ci stanno inquadrando però è importante cogliere l'occasione di avere qui la rappresentanza delle delle istituzioni e vale la pena forse fare un piccolo strappa alla regola cambiando l'ordine degli addendi poi sarà nostro impegno corale far sì che il risultato cambi mai presidente il risultato della giornata di oggi deve cambiare perché altrimenti noi ci rimaniamo male voi più di me sicuramente onorevole Malavasi e l'onorevole Girelli prima l'onorevole Malavasi prego si accomodi anche anche al podio perché l'ho vista pazientare lì seduta e prendere appunti onorevole qui abbiamo un problema di tra virgolette governance che riguarda soprattutto la possibilità di esecuzione dei test il test chiave sulla Dams 13 ce l'ha spiegato anche le colleghe della clinica prima che non è omogenea in tutto il territorio nazionale quindi è un accesso limitato o limitante per alcuni dei pazienti ed è anche un test costoso poi loro ce lo racconteranno in alcune zone c'è un problema culturale di esortazione a noi cittadini per primi ad essere generosi e quindi a donare adesso giornalisticamente è banale in estate parlare delle donazioni che calano perché si va in vacanza anche i donatori vanno in vacanza però il problema del plasma è un problema più generale insomma quindi c'è un problema di cultura anche del cittadino italiano e poi c'è un problema di come dire tra virgolette di presa in carico e di organizzazione dei servizi che in poche ore lo abbiamo visto devono in qualche modo riconoscere gli strumenti ci sono le terapie ci sono l'importante è mettere insieme tutti i fattori che idea si è fatta di quanto ascoltato allora grazie buongiorno a tutti chiedo scusa in realtà il voto nel frattempo ce lo siamo persi e quindi siete testimoni che ho perso un voto per essere qua con voi e quindi nel mio curriculum c'era scritto che non ho votato e pazienza sto scherzando perché un voto non cambierà la vita di nessuno ma poiché sono lì già al nostro dovere insomma cerchiamo di essere presenti perché alla fine di questi parlamentari l'unica cosa che le persone vanno a vedere è quante volte siamo stati in aula e quindi insomma diventa abbastanza deprimente vabbè è uno sfugo e vi inizio a ringraziare il presidente e voi per l'invito vi leggo un messaggio che ho ricevuto quando abbiamo fatto il webinar l'altra volta che mi ha permesso di conoscere una cosa che non conoscevo della mia provincia io sono di Reggio Emilia nel corso del webinar ho ricevuto un messaggio di una mia concittadina che mi dice ti ringrazio per la tua presenza sto seguendo il webinar questa malattia rara ha colpito all'improvviso mia figlia di 37 anni è stata in terapia intensiva al nostro Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per più di due settimane a maggio quindi era una cosa recentissima perché ci siamo visti il 20 giugno e mi dice maggio 2023 voglio solo testimoniarti ed è un messaggio quindi positivo che voglio dare che la nostra medicina a Reggio è eccellente hanno riconosciuto subito la malattia il personale è stato subito preparato e presente ora è ancora in cura cure pesanti ma almeno è viva e non è scontato per come era arrivata il pronto soccorso di Guastalle e poi trasferita a Reggio Emilia lo riporto volentieri perché rientra nelle riflessioni che sono uscite uno è il fatto che il tempo è vita ed è un tempo è una vita preziosa se lo dico salutando l'avvocata presente perché è uno dei temi che emerge spesso devo dire quando si parla di malattie rare o ultra rare come in questo caso è proprio la prontezza della diagnosi nel capire o nel farsi almeno venire un dubbio per fare qualche approfondimento per individuare precocemente la diagnosi è evidente che su questo forse bisogna fare qualche sforzo in più sulla parte della formazione per garantire soprattutto in chi opera o nella medicina di base territoriale o nel sistema dell'emergenza urgenza di capire nell'immediatezza per prescrivere quegli esami che possono escludere o meno o comunque questo tipo di patologie che effettivamente essendo una patologia ultra rara ha bisogno da un lato siccome è di formazione medico specialistica dall'altro lato di una sensibilizzazione come diceva lei all'inizio lo dico perché le malattie rare non possono essere un affare tra virgolette solo di chi ha la malattia rara e c'è bisogno di sensibilizzare moltissimo le nostre comunità perché non sono diciamo nozioni condivise e quindi bisogna che la malattia rara diventi un problema sociale collettivo e se vogliamo comunque farcene carico anche rispetto alle conseguenze non solo diciamo fisiche per la patologia ma anche sociali per l'impatto della ricaduta che ha sulla qualità della vita delle persone che ne vengono colpite perché poi può capitare a tutti quindi bisognerebbe mettersi dall'altra parte nel riflettere che una malattia ovviamente le malattie sono democratiche no? possono capitare a tutti indipendentemente da chi siamo da dove viviamo da dove siamo nati e quindi bisognerebbe avere forse una maggiore diciamo conoscenza che significa anche una maggiore responsabilità come comunità nell'accoglierne e supportare le fragilità che derivano da queste patologie lo dico perché l'impatto è sulla vita quotidiana familiare sociale lavorativa del tempo libero che uno vuole gestire come meglio crede e la cosa che viene fuori e ovviamente ho letto la cosa di Reggio Emilia insomma che è una regione insomma abbastanza attenta sulla sanità perché il tema delle differenze regionali io penso che sia una cosa assolutamente sgradevole cioè non è possibile che nel 2023 i cittadini italiani abbiano delle differenze regionali anche molto evidenti questo è un tema sulla sanità enorme che emerge tantissimi in tutti i rapporti che abbiamo sentito ho letto presentato la stessa Agenas ovviamente evidenzia come le differenze regionali siano enormi e questo va a ledere comunque il diritto la fruizione del diritto della salute da parte ovviamente dei cittadini e delle cittadine italiane su questo bisognerà lavorare è evidente che oggi si sta ragionando anche per il progetto che c'è di autonomia differenziata di un'analisi dei LEP la mia preoccupazione lo dico ma spero di essere smentita è che questo porti ulteriormente invece ad aumentare delle differenze regionali invece che andare ad equilibrare a colmare che bene non fanno certamente al nostro paese soprattutto perché non abbiamo bisogno che ci siano ulteriori differenziazioni anzi dobbiamo lavorare per garantire a tutti i nostri cittadini le stesse opportunità la stessa formazione la stessa prontezza le stessi ospedali la stessa qualità di cura e di vita in questo paese il tema del plasma che avete citato è un tema impattante nel nostro paese non siamo bravissimi la dico così ci sono anche qui differenze regionali evidenti sul sangue siamo un po' più bravi rispetto al plasma nel 2022 è stato un anno negativo per le donazioni di plasma è stato inferiore rispetto all'anno per cento di circa 20.000 kg quindi un numero comunque rilevante era un 2,3% se non ricordo male e su questo io penso che in generale sul tema del dono il nostro paese sia abbastanza indietro abbiamo fatto diversi incontri anche su questo tema con le associazioni che si occupano di donazioni io penso che ci sia bisogno di portare questo tema dentro alle scuole c'è una necessità di educazione rispetto alla dono alla generosità che è una necessità di vita di tempo di organi di midollo di plasma di sangue perché è un problema secondo me prima di tutto culturale quindi vanno accompagnate le nostre comunità a crescere a diventare consapevoli in questo caso tra l'altro il plasma è sicuramente uno degli elementi più legati anche alle terapie innovative su cui c'è bisogno ovviamente di spingere un po' sull'acceleratore e ho suggerito ai presidenti delle associazioni di provare a fare una triangolazione con il ministero della salute e il ministero dell'istruzione perché è lì che dobbiamo andare sapendo bene che non dobbiamo sempre scaricare tutto sulle scuole è vero ma sulle scuole diciamo secondo me sono un veicolo importante per è una sorta di educazione civica questa no? che dobbiamo provare a fare per provare ad accompagnare i ragazzi ad essere generosi perché essere generosi significa essere responsabili ma anche sentirsi la responsabilità di essere una comunità in realtà questa è una società troppo individualista ahimè che poco si preoccupa di cosa succede agli altri e questo significa ovviamente non essere nemmeno attenti a questi a questi fenomeni stavo ragionando visto che parliamo di diritti delle persone insieme all'onore Olgirelli che è un mio collega anche non solo di commissione ma anche politicamente nel mio stesso partito e di depositare un'interrogazione lo faremo magari insieme a lui anche per vedere come stanno avanti queste linee guida nel senso che il tema su cui possiamo provare ad agire a di là del tema del plasma insomma capire come stanno venendo attuate queste linee guida che sono comunque molto recenti per chiedere un monitoraggio comunque al ministero proprio per capire una volta che avremo le risposte in che modo provare a incidere ulteriormente per migliorare non solo le linee guida ma anche chiedere diciamo quegli sforzi alle regioni per provare comunque a eliminare queste differenze non solo per i test che avete ma anche per la cura seguente c'è bisogno di diagnosticare precocemente di prendere in carico il paziente ma anche di seguirlo in seguito una volta che ovviamente la fase acuta della malattia è magari passata quindi magari su questo ci possiamo impegnare insieme al collega Gian Antonio nel depositare un'interrogazione nei prossimi giorni magari il testo lo concorderemo con voi se siete disponibili interessati proprio per chiedere un monitoraggio perché sulle linee guida forse vale la pena chiedere uno sforzo per provare a rispondere anche alle domande che ci avete fatto questa mattina grazie 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 onorevole Malavasi la prima cosa che mi viene in mente sentendola ascoltare insomma cominciamo a spingere in qualche modo affinché quantomeno la il test il dosaggio dell'attività di Adam Serete ci sia inserito nei LEA perché non vedo proprio il motivo ma poi ce lo racconterà la vicepresidente che ci sono delle differenze economiche sostanziali tra chi sia male in una regione rispetto a un'altra perché c'è chi lo ottiene lo ha perché la sua regione lo prevede e altre dove no e quindi deve pagare di tasca vostra tutto sempre lo ricordo nelle 4, 5, 6 ore in cui non è che sta a casa sul computer a pagare online un esame è magari in ospedale o in pronto soccorso con un'emergenza Onorevole Girelli ci lasci anche lei il suo commento l'impegno che ha preso pubblicamente anche l'Onore Malavasi a suo nome lo diamo ormai come lo diamo ormai per acquisito però no le sue riflessioni in merito non c'è questo problema anche perché con mi permetto di dire l'amica Ilenia che ci siamo conosciuti in questo inizio di legislatura per tutte e due come prima esperienza è nata un'affinità di impegno non da poco che penso di poter parlare anche per te Ilenia ha messo anche a dura prova quello che è il nostro ruolo perché personalmente vengo dall'esperienza di consiglio regionale Lombardo e quindi di aver incontrato chiamiamo considerati tra le eccellenze poi in realtà vi posso raccontare di tante criticità che riguardano soprattutto anche il tema delle malattie rare e nell'arrivare qui ci si rende conto come è anche molto più grande il contesto e le persone che vivono situazioni di questo di questo genere che un po' ci mettono anche in difficoltà ci mettono nell'imbarazzo di rapportarci con realtà come quella di oggi oltretutto in modalità che sempre troviamo anche un po' precarie non è disattenzione ma come diceva prima ilenia abbiamo le votazioni in corso adesso le hanno sospese per un po' quindi legna non siamo bannati nelle statistiche non precipitiamo che ti dà anche l'idea di com'è il ruolo del legislatore del decisore come veniamo un po' definiti sia molte volte staccato dalla realtà però confidiamo che ci facciate avere il materiale che anche oggi verrà prodotto per l'attenzione io la prendo anche molto larga e la parto proprio dalla Costituzione che tutte le volte dovremmo avere come riferimento e che dovrebbe aiutare a superare tutta la frammentazione regionale e anche tutte le ambiguità e le timidezze che noi abbiamo nell'affrontare il contesto della sanità perché l'articolo 32 ha varie caratteristiche tra le altre c'è addirittura quella che non parla di cittadino ma di individuo che sembra una banalità ma non è una banalità perché le madri e i padri costituenti hanno pensato che chi vive nel nostro paese deve poter godere del massimo che la scienza gli può consegnare nel risolvere i suoi problemi ma non solo chi è cittadino italiano persino chiunque sia su questa terra su questo e poi facciamo i conti con la realtà ci accorgiamo come siamo distanti in un mondo fra l'altro che ci sconsegna sempre più potenzialità perché la scienza è sempre più più avanti anzi a volte mette eticamente in difficoltà su dove si è il confine nei rapporti tra la vita e la scienza e però abbiamo perso di vista i fini che cos'è il bene della persona e davvero io credo che da questo punto di vista tutto quello che è stato evidenziato sta dentro questo ragionamento dove c'è una responsabilità della politica e poi dirò due cose riguardo il prendere decisioni normale finanziare determinate cose ma c'è anche la responsabilità di una società che deve diventare profondamente solidale che non è meno responsabile del contesto in cui si vive ed allora detto in così proprio per titoli ecco io credo che noi dobbiamo fare massimo sforzo nel tornare davvero ad un'idea di medicina che sappia essere di prossimità e vicino alle situazioni e questo cosa significa? Significa che per esempio nella riorganizzazione che dovrebbe essere attuata ma non vi nascondo le forti preoccupazioni ma non siamo in sede di discussione politica vi risparmio quelli che possono essere dei commenti soggettivi le case delle comunità gli ospedali di comunità dovrebbero diventare il luogo dove trovano risposte anche anche le domande che ponete voi e perché? Perché lì dentro dovrei trovare quell'equip diciamo di di personale sanitario che sa lavorare appunto in maniera multidisciplinare che ha al proprio interno anche le persone formate per andare a individuare immediatamente quelli che sono gli alert che mi devono portare a fare delle verifiche immediate perché davvero non so nemmeno trovare l'aggettivo il pensare che una diagnosi precoce non solo salva una vita ma rende comunque la vita insomma di una certa qualità rispetto al non farla e trovarsi a dover inseguire un qualcosa che è andato molto molto avanti e se vogliamo essere cinicissimi anche dal punto di vista economico è un risparmio ma un ragionamento che mi convince poco perché la qualità della vita già basterebbe io dico questo cosa vuol dire? vuol dire che nei corsi anche di formazione del personale sanitario bisogna evitare sempre quelle quell'eccesso di specializzazione sulla malattia che per rendere fa perdere di vista la persona con la malattia e fa abituare anche i professionisti ad essere bravissimi nel loro campo ma anche essere capacissimi nel riconoscere la necessità di chiedere a qualcun altro di metterci da testa e di esprimere un parere non pensare di bastarsi perché l'eccesso di specializzazione porta all'avere i paraocchi e non avere questo le case e le comunità sono quello a luogo lì le università devono cambiare i loro corsi conformativi e la ricerca ha bisogno di finanziamenti sia pubblici e magari sarebbe davvero bello come la specializzazione delle malattie rare fosse consegnati ad alcuni IRCS in particolare già un po' c'è questo ma non in maniera sufficientemente spinta perché diventino il luogo della produzione di ricerca abbiamo avuto una storia anche molto che è molto positivo penso al tempo dei primi episodi di HIV penso all'ospedale della mia città quello di Brescia come si era specializzato rispetto a questo e penso quanto si è perso un po' ha a che fare col rapporto col mondo della farmaceutica con i brevetti con l'accessibilità a questi farmaci e ha a che fare poi poi chiudo con il fatto che bisogna davvero sperare la frammentazione nell'applicazione dei LEA e anche dei LEA per dire la verità ma nel coraggio di allargarli più possibili perché noi viviamo anche qui la contraddizione che da un certo punto di vista si sente si percepisce l'esigenza di guardare a tutti questi settori oserei dire ormai in un campo perlomeno europeo ma forse non basta neanche quando si parla di ricerca di farmaceutico e quant'altro andiamo in un contesto mondiale e poi siamo qui ancora a discutere di un regionalismo differenziato che vorrebbe consegnare alle singole realtà dei 21 modelli italiani una maggiore autonomia nell'applicazione nella normare settori come questo ma l'ultima riflessione riguarda anche il modello della società perché perché poi la presa in carico delle situazioni non è la presa in carico di un legislatore o di una struttura ma di una comunità che come diceva benissimo Ilenia come sempre sente il problema della persona come un problema di tutti e la risposta un dovere di tutti ecco che allora io sono convinto che al di là della nostra interrogazione che sicuramente faremo se Ilenia l'ha detto stasera è pronta gli arriverà la proposta di come riuscire a introdurre anche in articolato in emendamenti nelle norme perché poi le risposte sono sempre quelle che possono essere anche belle persuasive ma se non sono accompagnate i distanziamenti non si va da nessuna parte quello perciò vi chiedo in maniera molto puntuale di farci avere ma non a noi a tutti i membri della commissione affari sociali parlamentari senatori della Repubblica puntuali richieste siccome siete capaci avete anche il supporto tecnico giuridico e scientifico adatto puntuali nel dire cosa serve riguardo queste cose e alla domanda non ci sono i soldi io penso che si possa e dobbiamo tutti rispondere che i soldi innanzitutto si decide dove andare a collocarli e poi magari si comincia ad andare a prenderli da chi non li paga per poterli utilizzare per dare le risposte scusatemi se mi ne devo andare grazie 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 davvero di cuore onorevole Girelli che deve scappare lo ringraziamo io raccomando anche a tutti gli amici dell'associazione non fate uscire l'onorevole Girelli e l'onorevole Malavasi senza questa spillina perché non sarebbe male che oggi che si celebra che si celebra la seconda giornata nazionale insomma girino per i palazzi delle istituzioni con un con un bottone colorato presidente oggi abbiamo stravolto un pochino tutti i piani io volevo l'avrei chiamata dopo in sede di come da programma tavola rotonda ma diciamo dichiariamo la tavola rotonda aperta poi ci saranno ancora anche altri altri interventi perché al di là di quelle che sono le problematiche di carattere legislativo o comunque regolatorio e comunque di emendamenti e di interrogazioni noi dobbiamo insistere nel motivare le vostre richieste con quelle che sono le problematiche del vissuto dei pazienti presidente le chiedo intanto un'opinione su quello che ha ascoltato dai nostri due ospiti e poi se dovesse lei stilare a me giornalista io quando scrivo un articolo mi faccio uno schema come si faceva con i temi al liceo questi sono i punti che voglio trattare e in genere ancora faccio così mi dia poi dopo il suo commento quattro punti per il mio tema di maturità dunque commentare allora gli onorevoli hanno preso degli impegni hanno preso un impegno e come commento a questo impegno da parte nostra ci sarà sicuramente attenzione che seguiremo tra l'altro andando via l'onorevole Malavasi mi ha detto ci dobbiamo sentire perché voglio farla ma voglio farla insieme a voi noi da statuto associativo abbiamo sempre e lo dichiariamo sempre in qualsiasi occasione che siamo sempre pronti a collaborare a costruire a partecipare l'importante per noi è partecipare ma partecipare non abbraccia concerti così ad ascoltare partecipare in modo fattivo e noi siamo pronti se è vero che bisogna portarlo avanti eccoci qua siamo pronti per quello che hanno detto quindi diciamo che per il momento siamo contenti dell'impegno poi lo monitoreremo questo impegno anzi vi informeremo se andrà avanti se sta andando avanti e soprattutto speriamo che ci siano dei risultati i quattro i quattro i quattro devo prendere un pochino di 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 rincorsa allora i quattro i quattro punti beh è stato già anche detto un po' velatamente ma adesso lo diciamo proprio apertamente allora soprattutto eh l'inserimento del test dell'Adams nei Lea mhm perché vogliamo questo vogliamo questo perché eh ci darebbe eh l'equità l'uguaglianza con tutti gli altri cittadini non ci devono essere pazienti i quali devono maledire di essere nati in Calabria eh anziché di essere nati di Lombardia questo no non c'è è inaccettabile noi la la differenzazione regionale la viviamo già tra l'altro perché se vediamo a macchia di leopardo la la nostra nazione abbiamo dove c'è il test dove non c'è ma è soprattutto per iniziativa regionale mi viene quasi da dire è come se ci stessero facendo un favore mentre invece se noi ce l'abbiamo nell'EA a quel punto ce l'abbiamo dappertutto e quindi appunto sì e quindi a quel punto non abbiamo più persone che devono prendere il treno devono prendere l'aereo e spostarsi da una regione all'altra per l'associazione per quanto riesce per quei pochissimi fondi che abbiamo noi comunque accompagniamo dei pazienti meno abbienti ovviamente ad andare nei luoghi dove si fa il famoso test e poi non è che ci fosse solo l'altro test in questo elenco bisognerebbe annullare l'abbiamo visto quanti sono l'altro l'altro punto è quello di proprio questo è quello di partecipare partecipare in in tutte quelle azioni delle istituzioni che a volte chiedono ma a volte rimangono soltanto parole e e non vogliamo più ascoltare eh stravolgo anche io la scaletta dei quattro punti non vogliamo solamente ascoltare tante persone tanti personaggi quali dicono nella nostra regione va tutto bene no non è così perché l'unico che può dire che va bene o non va bene il paziente a parole siamo tutti bravi ma come ha detto prima l'onorevole bisogna poi fare i fatti devono seguire i fatti devono seguire i fatti non puoi dire ti chiamo perché vabbè ok sono state fatte le linee guida e la l'associazione ha partecipato ma ha partecipato alzando la mano alzando la mano e il voto dell'associazione valeva quanto quello degli esperti clinici anche un PDTA ha bisogno della partecipazione dell'associazione soprattutto perché quello che viene dopo la linea guida vengono i PDTA e il paziente deve avere questo documento dove viene prescritto non solo quattro punti ma molto di più quello che che va per che deve essere fatto per salvare la vita per salvare la vita perché per noi il tempo è veramente vita assolutamente è veramente vita molti di noi quando c'è poco tempo quando perdono molto tempo e questo ritorno anche alla formazione che è stata fatta ci viene chiesta di fare formazione a noi pazienti per poter interloquire con le istituzioni ma intanto cominciassero a farla anche loro che non è detto che dobbiamo farla soltanto noi e quindi a questo punto ti trovi davanti a questa situazione e non sai è stato anche detto non sai quello che sta succedendo e senti che la vita ti sta andando via e non riesci a fare più niente e lì capisci quanto sei piccolino in tutto questo creato grazie grazie presidente tornerà su questo palco per i saluti e la chiusura finale in cui proveremo a tirare le fila grazie grazie davvero presidente noi lo abbiamo ascoltato eh anche nel video dell'avvocato piccolo ma insomma tracciato un po' da tutti quanti ehm il supporto psicologico non è un qualcosa in più che se c'è va bene e se non c'è pazienza ok e non riguarda spesso neanche eh solo e soltanto il paziente ma anche chi sta attorno al paziente quindi i suoi familiari eh la sua cerchia io ringrazio e do il benvenuto la dottoressa Stefania Russo che è psicologa docente presso la scuola di formazione soave sia il vento che è un bellissimo onore a cui chiedo di approfondire questo aspetto così particolare che non richiesto è venuto spontaneamente come elemento importante mettiamo sempre al mio appuntino di bullet point quello che è il supporto psicologico al paziente probabilmente probabilmente anche nel nel momento della diagnosi del pronto soccorso della problematica e lì viene chiesto anche ai clinici di essere un po' psicologi no? c'è chi è più sensibile che è più empatico però poi c'è un momento in cui si esce e si deve affrontare la vita quotidiana dottoressa intanto volevo ringraziare Massimo per avermi dato questa possibilità di essere oggi qui con voi e intanto volevo dire che oggi non sono sola nel senso che oggi sono qui eh faccio da portavoce rispetto a un gruppo di amici c'è qui Rita Rita Chiaramonte e poi ci sono anche altri altri amici c'è Domenico Marotta c'è Nicole Lucaselli siamo quattro amici quattro professionisti che hanno deciso di 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 mettere fuori le loro le loro competenze e la loro la loro professione proprio per aiutare chi lo desidera perché intanto deve nasce deve partire da un desiderio sicuramente un dolore che porta poi al desiderio il desiderio di voler stare meglio oggi chiaramente io non mi soffermerò sulle sulla malattia in sé perché non ne ho le competenze ci sono dei professionisti che stanno facendo questo e sto scoprendo anche cose che non che non conoscevo e l'obiettivo mio oggi è proprio quello di parlare della possibilità sembra strano però poi da una malattia può nascere una possibilità una opportunità infatti mi ha tanto colpito la testimonianza di annunziata dove dice poi alla fine quando esco da quell'ospedale è tutto a far mio devo fare un nuovo percorso è vero succede questo a partire dal momento in cui si viene a conoscenza di avere questa malattia la vita proprio del paziente si divide il tempo del paziente si divide in due parti c'è un prima e c'è un dopo della malattia un prima in cui c'è stata la vita c'è stata la possibilità di realizzare di lavorare di avere anche per esempio dei figli un lavoro dal momento in cui c'è la la diagnosi della malattia c'è un dopo un dopo che c'è assolutamente non dobbiamo sminuire e far finta di niente però c'è stato quel prima e quel prima nel momento in cui c'è la diagnosi di questa malattia è una difesa è una risposta dell'essere umano però viene annullato è come se ad un certo punto il paziente dimenticasse che c'è stato un prima e qui c'è proprio quella 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 possibilità nel momento in cui c'è la consapevolezza di avere questa malattia il paziente si identifica con quella malattia io sono quella malattia mio figlio è quella malattia non sto dicendo che non è così nel senso che è una malattia che soprattutto nel momento in cui c'è una diagnosi di incurabilità è una malattia che rimane per tutto il resto della nostra vita e non è che il supporto psicologico fa svanire la malattia non mi permetterei assolutamente di affermare una cosa del genere però riaggangiandomi a quel prima attraverso un supporto psicologico si ha proprio la possibilità di andare a recuperare quel prima ricordando quelli che sono stati i nostri desideri le nostre possibilità tutto quello che siamo stati prima ecco poterlo portare all'interno di un percorso di terapia dove io posso integrare quella malattia che non vuol dire far finta di non averla ma integrare quella malattia e poter continuare attraverso il ricordo di quello che noi siamo stati poter continuare ad andare avanti con tutte le difficoltà con la malattia ma non identificandosi con la malattia e sembra non voglio assolutamente che arrivi il messaggio che è una passeggiata assolutamente anche poter decidere di iniziare un percorso di terapia non è assolutamente semplice però poi diventa una possibilità una possibilità di poter continuare un altro aspetto su cui mi volevo soffermare è la possibilità proprio della rete rispetto anche prima si è parlato rispetto alla collaborazione proprio con i con i medici tante volte è tanto faticoso per quel medico poter comunicare quella diagnosi no? non è semplice assolutamente quindi sarebbe proprio importante proprio perché si parte noi psicologi partiamo da questa da questa certezza che l'essere umano è integrazione di mente di corpo e di affetti e quindi se nel rapporto con quel medico insieme andiamo a a recuperare questa certezza e quindi a poterla trasmettere a quel paziente alla fine poi quella comunicazione di diagnosi non diventa una comunicazione di fine vita ma di possibilità di poter continuare a ad affrontare la malattia perché comunque è è una grande fatica sicuramente però ecco con la possibilità di di ricordarci quello che siamo stati e di poterla portare nella realtà quotidiana come come desiderio come desiderio integrato con la malattia ecco questo mi sento di dire un piccolo messaggio di speranza barra certezza che ce la possiamo fare grazie grazie mille dottoressa grazie a voi è fondamentale il concetto e la distinzione del concetto tra inguaribilità e curabilità alle orecchie di un paziente cronico è fondamentale è la differenza tra una prospettiva di vita diciamo serena nella consapevolezza di avere una patologia e una prospettiva di vita di paura e di spaventi probabilmente sono tante le malattie da cui non si può guarire però si possono curare e per curarle serve l'impegno l'impegno di tutti quanti torniamo nel vissuto del paziente anche perché dopo io vi coinvolgerò in una cosa che voi non sapete perché visto che abbiamo come dire rotto gli argini dei formalismi di programma li rompiamo fino in fondo Federica Pasella vicepresidente dell'ANPTT Onlus è bene insistere e rafforzare il concetto che c'è un vissuto del paziente che chi ci ascolta anche da casa deve interiorizzare fino a quasi avvenirli annoia e poi non mi ricordo se fosti tu o il presidente tiriamo fuori qualche numerino anche di carattere economico su questi benedetti test ad Amst 13 che qualcuno me l'ha detto e ci sono poi magari non diciamo dove no? perché siamo eleganti no, non diciamo dove naturalmente però insomma tanto per far capire a chi ci ascolta a cosa va incontro una parte dei porporini diciamo così beh una parte dei porporini va incontro a pagare un esame che per noi è fondamentale che ci dà la visione e l'andamento della nostra malattia quindi è l'esame dove possiamo capire se la recidiva sta per arrivare e quindi cercare di prevenirla con tutti i vari farmaci appunto che ora ehm la comunità scientifica finalmente ha provato è eh quindi possiamo utilizzare eh oppure se poter vivere il periodo di tre sei mesi un anno che ci separa dal prossimo ad Amst 13 più tranquillamente più tranquillamente però ehm non sempre perché eh noi attraversiamo io parlo personalmente ma penso di parlare proprio a nome di tutti i porporini ehm attraversiamo dei periodi in cui hm siamo ipocondriaci rispetto alla malattia eh in cui eh ci controlliamo ossessivamente il corpo per vedere se ci sono petecchie per vedere se c'è porpora per vedere se ci sono lividi controlliamo la nostra stanchezza controlliamo il pallore ehm controlliamo le urine perché è proprio da lì che di solito ehm si capisce se sta arrivando la recidiva o meno quindi io mi riallaccio un secondo proprio alla dottoressa Russo ehm voglio ribadire ehm che sì noi abbiamo questa malattia no? molti dicono che è una nuvoletta come la nuvoletta di fantozzi che ci segue io lo chiamo il mio compagno infatti io non sono sposata non sono fidanzata perché ho già il signor Moscovitz vicino a me ehm che ogni tanto riappare mh ma che ormai abbiamo imparato a gestire anche per chi se lo può permettere ecco e qua arriviamo proprio a quello che stavamo dicendo per chi se lo può permettere di ehm pagare un supporto psicologico per noi è importante sia per noi pazienti ma sappiamo che quando si ammala una persona si ammala anche tutta la famiglia e quindi è tutta la famiglia anche che ha necessità di un supporto psicologico prima di tutto per accettare la malattia del congiunto ma soprattutto per aiutare per supportare questi momenti appunto di crisi e mh molti di noi io compresa eh pago tuttora e ho dovuto pagare le sessioni di psicoterapia proprio per cercare di accettare la malattia e di conviverci io fortunatamente non pago la Dams 13 ma mh viaggio io sono ehm la classica turista sanitaria che dalla Sardegna si sposta verso la Lombardia per fare il test della Dams 13 e se non me lo potessi permettere non verrei curata perché ok perché perché io sono uguale a te sono uguale a te sono uguale a te sono uguale a te non ho nessuna differenza perché io non rappresento la mia malattia io non sono la mia malattia io sono un essere umano che ha il diritto di essere curato come tutti gli altri che sia una malattia rara o che non lo sia quindi perché io devo andare e qua termino devo andare a pagare un Dams 13 appunto non diciamo dove ehm più di 200 euro quindi io vado mi sposto turista sanitaria mi sposto io dalla Sardegna ho solo la possibilità di andare in aereo e nave ma il nave mi ci vuole un giorno quindi già io che lavoro quindi quanti giorni dovrei prendermi è già quello è un problema per chi lavora sottolineiamo per chi lavora che questo è un altro argomento mh dentro il quale non minotro perché ci sarebbe da parlare anni forse ehm quindi turista sanitaria mi pago l'aereo che dalla Sardegna vi do una una cifra 160 euro andata a ritorno in più mi devo pagare la Dams 13 che è più di 200 euro dovrò mangiare in quella mattinata dovrò prendere i mezzi dovrò prendere il taxi io in una giornata spendo 500 euro e se ho uno stipendio di 1.200 e devo andare ogni 3 mesi come faccio? ma poi perché mi devo spostare? io ho il diritto di essere curata dove vivo a casa mia quindi questo è un altro grave problema il turismo sanitario proprio perché c'è una disparità tra le regioni e quindi sempre la richiesta della Dams 13 nei LEA in modo che tutti possano essere curati dove vivono e poi la Dams 13 che io penso che debba essere gratuito in tutta Italia almeno e questo è già un grande passo grazie grazie a voi grazie grazie dottoressa Pasare mi verrebbe da dire con beneplacido del PNRR delle cure di prossimità insomma l'onorevole Girelli ha parlato dice ma se dovessimo essere cinicissimi ha usato questo termine beh bisognerebbe cominciare a essere cinici io invito anche le associazioni dei pazienti cominciamo a fare i conti in tasca di quanto costa una Dams 13 e di quanto costa averlo lisciato quanto costa un ricovero appunto quanto costa un ricovero quanto costa una recidiva eccetera insomma però purtroppo questo questo è il paese come si dice ancora dei silos purtroppo per cui le spese vengono diciamo in qualche modo sono elaborate e calcolate per vasi assolutamente non comunicanti è stata accolta prima con grande affetto io l'ho notato da i nostri amici insomma dell'associazione che sono qui in sala e a lei do volentieri la parola per parlarci di quelli che sono i risvolti sociali legati a questa patologia e mi ha colpito il fatto che sia stata accolta con grande affetto e con grande stima quindi la saluto e la ringrazio davvero di cuore la dottoressa Ervila Grandone IRCS casa sollievo della sofferenza grazie e benvenuta intanto sono io che ringrazio voi loro molti sono molto prossimi diciamo perché ci vediamo ci sentiamo abbastanza spesso e arricchiscono perché ti consentono ci consentono io non parlo a nome solo mio personale ma parlo a nome di un piccolo gruppo di persone che lavora con me c'è il biologo c'è l'infermiera che tiene contatti ci sono i tecnici del laboratorio che fanno un grande lavoro e io ho sentito tanti tanti temi tanti spunti veramente ho scritto avevo scritto delle cose ma poi ne ho segnate tante altre appena adesso mentre sentivo le vostre testimonianze e le cose da dire sarebbero veramente tante i risvolti sociali li avete già tutti sollevati io non credo di poter aggiungere molto però per rispondere alla presa in carico che non è tanto o solo la questione dell'acuto perché in acuto se hai la fortuna che chi ti accoglie in pronto soccorso e questo si aprirebbe già qui un mondo perché nei nostri soffrono di precarietà di giovani colleghi che abbandonano e quindi un turnover pazzesco e quindi la formazione il problema del mettere il famoso score nella tasca che è una cosa che noi proviamo a fare lo score significa far pensare al giovane medico inesperto che forse una condizione quel paziente può avere il problema con cinque indicatori facili tre domande e due esami banali di laboratorio che ti fanno almeno avere il sospetto dopodiché tu puoi anche trasferire o puoi chiamare il collega più esperto di te se già sei in un centro evoluto che è in grado di gestire come al gemelli l'evento quindi il problema però è una volta che esci almeno dal mio punto di vista perché io poi mi occupo prevalentemente di quello una volta che esci dalla fase acuta tutta la presa in carico che è sì il dosaggio che è fondamentale la gratuità del dosaggio ma è tutto il resto questo in realtà in Italia non è stato identificato neanche una figura o più figure professionali che possano fare il follow up diciamo noi di queste condizioni abbiamo avuto delle testimonianze io come persona che si occupa anche di medicina di genere molto di medicina di genere è stato già detto lo ripeto la gran parte di queste delle persone che sono colpite da questo evento sono donne e sono donne giovani quindi è anche facile immaginare che i fattori di rischio che predispongono al primo evento e agli eventi successivi una donna giovane saranno diversi dai fattori di rischio in questo caso il maschio diventa una rarità nella rarità però il maschio probabilmente ha bisogno di attenzioni differenti probabilmente i fattori di rischio sono differenti probabilmente le recidive sono differenti le caratteristiche quindi i percorsi devono essere necessariamente differenziati i risvolti sociali sono differenti evidentemente la donna giovane è una donna che fa può chiedere la contraccettione e ti chiede ma io che ho avuto un evento a 15-18 anni posso prendere il contraccettivo noi sappiamo che quello per esempio è una condizione che espone mediamente in generale ma quella signora lì quella ragazza lì che ti fa la domanda è o non è esposta noi di questo noi per primi non abbiamo non possiamo dare informazioni esattamente come non possiamo predire il rischio di recidiva in una gravidanza e qui arrivo all'altro tema che è quello delle reti tutti ci riempiamo la bocca di reti parliamo di reti dell'emofilia io mi occupo anche di tutta una serie di altre condizioni della coagulazione rare si parla tanto di reti dappertutto si parla dei modelli ne parlavamo prima sono dal mio punto di vista contenitori vuoti perché la signora che deve fare tanti chilometri e spendere tanto denaro ma anche tempo anche frustrazione anche problemi con lavoro eccetera per andare a consegnare un prelievo di sangue potrebbe se avesse una rete che fosse una rete e se fosse una rete interna noi non riusciamo a farlo funzionare dentro le regioni abbiamo sentito 21 regioni di 21 sanità diverse ma se avessimo un'unica rete nazionale come in altri paesi c'è per tante condizioni noi probabilmente la signora non avremmo bisogno di farla andare ma potremmo garantire a quella signora un prelievo e una spedizione del poi la telemedicina le televisite, i teleconsulti anche questi sono secondo me strumenti molto importanti che possono abbattere il disagio perché ci possono anche quelle mettere in rete peccato che appunto i decisori sono andati via nella mia regione e nella mia realtà la telemedicina e la televisita è codificata noi la utilizziamo perché Massimo lo sa fisicamente siamo in montagna abbiamo già facciamo fatica a parlare con persone della stessa regione della stessa provincia perché per arrivare da Vieste a San Giovanni di Otondo ci vuole un paio d'ore di macchina il problema è che però i decisori rimborsano e io parlo a nome della mia direzione generale in qualche modo rimborsano questa prestazione 13 euro e quindi questo è un problema di risorse è un problema di cercare tutti insieme di rendere sostenibili questi percorsi per cui il risvolto sociale abbiamo sentito i risvolti sociali io ripeto ne avevo elencati una serie ma alla fine altro non sono che la sintesi di tutto quello che abbiamo sentito finora secondo me si potrebbero in gran parte anche immagino il supporto psicologico attraverso un teleconsulto si potrebbe offrire se si volesse e quindi non ci sarebbe neanche bisogno di avere per ogni regione due tre figure probabilmente ce ne dovrebbero essere alcune a livello territoriale e altre a livello un pochino più complesso a livello nazionale ecco da questo punto di vista la parola rete se riusciamo a renderla in qualche modo a riempirla di contenuti e qui spezzo una lancia perché noi come SISET cioè come società per la demostra sia la trombosi l'acronimo significa quello stiamo provando a formare attraverso un master di secondo livello che ha sede qui a Roma presso l'università cattolica in cui parliamo anche di questi temi sono alcuni degli aspetti che noi affrontiamo e poi proviamo quindi attraverso la formazione a interloquire con l'istituto superiore di sanità per le linee guida voi avete più volte tirato fuori le linee guida le linee guida sono uno strumento utilissimo poi però ci vogliono gli audit che servono per che è un po' lo sforzo che state provando a fare che servono per capire se ovunque e di più in periferia queste linee guida vengono applicate o vengono in qualche modo tradotte in percorsi diagnostico terapeutici assistenziali cosiddetti PDTA in cui il paziente l'operatore e il decisore devono stare insieme dal primo momento come voi stessi avete e anche questi sono spesso contenitori vuoti voi l'avete più volte sottolineato io lo ribadisco in qualche modo anche noi subiamo la frustrazione dei PDTA che incominciano se ci va bene e che non finiscono non vengono siglati o vengono siglati e poi però non c'è il famoso audit quindi non sappiamo dopo che cosa succede veramente nella realtà e lo sforzo che i singoli compiono non è sempre sufficiente io avverto molto questa fatica anche cioè se io non ci sono se il mio tecnico non c'è se il mio biologo non c'è noi non riusciamo a far funzionare la macchina quindi è chiaro che c'è bisogno non solo di una alleanza ma c'è bisogno di un sistema che ci dia supporto ecco io penso che con questo ho cercato di dire anche qualcosa sui risvolti sociali ma insomma penso che serva un'alleanza ecco la sintetizzerei come necessità di alleanza grazie, grazie mille grazie mille dottoressa Grandone che ci ha parlato sicuramente ci le ha ricordate i risvolti sociali ma ci ha parlato anche dei risvolti tra virgolette politici di questa patologia perché si fanno le linee guida benissimo bisogna fare poi scrivere i PDTA e possibilmente applicarli in tutte le regioni se uno scrivesse un bel PDTA su questa patologia si accorgerebbe della complessità e dell'interdisciplinarietà assolutamente necessaria nel percorso del paziente perché non puoi fare un PDTA su questa patologia senza inserire dentro l'ematologo il care manager lo psicologo una rete di prossimità sul territorio per la presa in carico ed anche gli strumenti della digitalizzazione e della telemedicina che oggi avvicinano questo incontro a chi ci sta ascoltando ma contestualmente lo strumento è sempre lo stesso possono avvicinare le informazioni e anche i professionisti tra di loro quando si parlava di reti le reti non sono reti fisiche sono reti intellettuali e reti culturali che coinvolgono in prima persona i professionisti prima di avviarci verso la chiusura sempre nello stravolgimento della nostra tavola rotonda che ormai è diventata immaginifica volevo chiedere alla dottoressa Filippini di tornare qui accanto a me sul palco per tirare anche un po' le fila dal punto di vista di chi di chi ha investito e investe risorse diciamo intelletto, scienza e ricerca su patologie che ripeto sono ultra rare ma che poi così rare non sono perché assolutamente assolutamente no 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 era solo una chiosa finale guarda ti do ecco aspetti vediamo se è acceso il microfono perché non lo sento il ritorno proviamo ora ecco ecco vai allora dicevo intanto giornate come queste sono giornate molto fruttuose io vi ringrazio a tutti davvero per la presenza per la partecipazione e poi veramente anche noi impariamo ogni giorno stando a contatto con chi vive la patologia tutti i giorni e ricordo appunto il caregiver il ruolo del caregiver il ruolo fondamentale delle associazioni dei medici ma anche delle istituzioni che comunque hanno testimoniato il loro impegno tra l'altro come dicevo veramente collaborare con con questa associazione e con Massimo è contagioso è contagioso quando anche lui racconta la sua esperienza e la missione ormai perché l'ha trasformata in missione allora io diciamo mi porto a casa due parole mi piace sempre un po' sintetizzare che sono accelerare e uniformare per me queste sono un po' le due parole chiave della giornata di oggi accelerare accelerare perché c'è bisogno di dare una risposta c'è bisogno di dare una risposta concreta si è fatto tanto rispetto a un anno fa in fondo come dire no? siamo partiti siamo partiti quasi da zero e quindi insomma si è fatto tanto ma adesso insomma veramente l'inserimento l'aggiornamento dell'EA tutte queste sono priorità e risposte e l'altro tema fondamentale è che veramente non è possibile che se un paziente si trova in una regione piuttosto che un'altra è un tema che conosciamo è un tema che credo anche le istituzioni conoscono bene perché ne parliamo sempre tra l'altro diciamo anche anche su questo aspetto è fondamentale arrivare come dicevo appunto un'uniformità e poi ovviamente noi siamo anche molto coinvolti nel tema proprio nella sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue e di plasma tra l'altro appunto siamo sempre a fianco in una campagna social per sensibilizzare su queste tematiche fondamentali e quindi insomma noi ci siamo ci siamo accanto ai pazienti e siamo ben felici insomma di lavorare insieme ovviamente nel rispetto ognuno del proprio ruolo ma di lavorare insieme per questo tipo di priorità ecco quindi grazie ringraziamo ringrazio la dottoressa Filippini e ringraziando lei ringrazio Sanofi Presidente a lei qualche battuta finale di chiusura su questa giornata non scappi perché poi c'è la sorpresa che ve la faccio io ma non vi dico che cos'è vabbè diciamo Presidente alcune delle degli impegni che abbiamo ascoltato anche dalla parte istituzionale rimangono nero su bianco in qualche modo perché voi sapete noi ad oggi adesso stiamo trasmettendo in diretta ma scriveremo di questo riproporremo questa differita e comunque rimarrà lì a disposizione guardando la mia collega della redazione chiedo se state fatte le interviste anche il che significa che probabilmente hanno anche dichiarato in un'intervista il loro impegno e che significa averci messo una firma sopra io esorto davvero ma non non ce n'è bisogno è solo per dire qualcosa la l'associazione che lei presiede chiede in questo momento è che qui davanti a mettere mano alla penna e a dar corsa a quelle che sono le interrogazioni le interpellanze da da presentare detto ciò mi taccio lascio a lei qualche minuto per la chiosa finale e non vi muovete prego noi siamo pronti la penna ce l'abbiamo già in mano vedo il il Mario che ha già la penna in mano quindi siamo già pronti per fare questo l'ho detto prima e lo ribadisco ancora siamo sempre stati pronti per tante cose si è parlato dei ptta siamo pronti anche per i ptta siamo ci siamo i ptta e ovviamente aspettando che qualcosa si concreti e credo che che forse arriveremo a in alcune in alcune zone d'Italia accelerare e uniformare si sono due parole azzeccate per questa giornata accelerare perché per ritornare poi ad un'altra ad un'altra frase più che parola il tempo perché il tempo è vita e quindi bisogna accelerare per chi per chi oggi c'è per chi non c'è per chi verrà dopo perché tanto comunque arriveranno anche altri e quindi soprattutto chi arriverà dopo deve avere un qualcosa di meglio migliore e quindi sperando che troverà qualcosa di uniformato e non dovrà fare più il viaggio in aereo in treno e chi più ne ha più ne metta in macchina e via di seguito quindi mettiamoci un'altra parola riuscita proprio dalla dottoressa Filippini collaborare ma noi più che collaborare stiamo collaborando e stiamo ben lieti di collaborare con loro come vorremmo essere ci stiamo provando tante volte con le istituzioni dove fino ad oggi ci sono state almeno per quanto ci riguarda per quanto riguarda la porpora la trombotica la trombocidopenica sono state soltanto chiacchiere e noi vogliamo essere copiloti copiloti come in un aereo no? due cloche e quindi guidare insieme guidare insieme copiloti proprio per cercare di migliorare il nostro mondo e se miglioriamo il nostro mondo miglioriamo il mondo anche degli altri grazie grazie presidente rimanga qui presidente perché noi siamo arrivati come dire siamo giunti al termine di questo incontro e di questo piccolo grande viaggio piccolo temporalmente ma grandissimo per le suggestioni e anche le informazioni anche che ci sono state date oggi per aiutarci a comprendere una patologia molto rara ma assai complessa e che tocca da vicino tante tante persone io prima di chiudere e di chiedere alla regia di mandare la sigla tengo qua il presidente vorrei invitare qui sul palco per ringraziare ma in modo che anche voi possiate guardare negli occhi chi oggi si sta impegnando in questo quindi io prego tutti quanti venite qui salutiamo insieme il pubblico prego 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 per salutare ecco in modo che non sia un'entità aliena le persone a cui io mi sono rivolto sono persone padri, madri, sorelle di famiglia ecco così dici guarda può vedere che l'associazione c'è è fatta di persone da figli fratelli papà mariti mogli future mamme auguri e diciamo questa dovrebbe essere la posizione sono loro lì e noi anche diciamo in qualche modo responsabili della comunicazione del mondo dei media che in qualche modo diamo il nostro contributo che ci sediamo da quest'altra parte ad ascoltare loro grazie a chi ci ha seguito grazie a voi aspetti per usare una parola una frase napoletana c'è una simma è meglio grazie grazie davvero a tutti buona giornata ci vediamo noi alla speriamo prima di avere notizie buone ma insomma confidiamo che nel terzo appuntamento della giornata dedicata a questa patologia si possa arrivare con qualche punto sul mio schema di articolo in meno rispetto a quelli di oggi grazie alla prossima grazie a tutti